E la barca, non mi riempio di troiaio il mondo! Oh, perché si, perché si bugga? Addio, parto col mio milione, no, col mio dollaro, ciao! Col dollaro, addio! Perché non va avanti? Sì che vai avanti, vai lateralmente! Ma dove cazzo è? Mi son persa! Ma dove cazzo sei andata? Una cosa, una cosa dovevamo fare, startar da là! Andiamo! Andiamo, andiamo all'avventura! No, è a destra comunque! Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati nel... No, sull'H! Sulla H! Il Hutt! Beh, Armory, Great Armory! Benvenuti e bentornati nel Great Armory! Che sottacchiata che hai dato! Madonna, proprio, l'alitata, ho sverniciato lo schermo E siamo tornati con un nuovissimo episodio Con le vostre Army Personal Con tutti gli aggiornamenti, con piccoli aggiornamenti Accenniamo, magari... Perché piano piano ce la stiamo facendo Piano piano, ci sto lavorando tantissimo Spistiamo, ma ci stanno aiutando anche altre persone E anche altre persone Ho creato un ospedale A quell'arena brutta brutta di Quarzo è stata eliminata Magari, facciamo uno spoiler Acceno a queste sei armi qui Le vedrete e basta, le vedrete e basta No, devono scriverlo, devono scriverlo sui commenti Secondo loro, queste armi qui, che cosa sono? Non sono riferite Cioè, ovviamente... No, no, niente indizi Perché già... Come spunto? No, 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 aspetta Ma l'ospedale è già un intuito? Appunto Dovete intuire che comunque è qualcosa con l'ospedale Vediamo chi vince Vediamo chi vince Chi vince? Ah! Aspetta, facciamo un contest Oddio, ho paura Allora Se indovinate a cosa servono questi item E magari se volete... Questi... Queste armi E magari se volete anche dire secondo voi Gli effetti, cose così Chi vince farà da tester beta Giusto? Beta tester Beta tester Eh, tester beta, vabbè Beta tester sul nostro server Così capiamo se ci sono bug, se ci sono problemi E pian piano apriamo Credite? Potrete iniziare a guardare Iniziare a giocherellare A giocare tutte le cose che vi terrei Oh, ho vinto 100 dollari Ehm... E niente, stavo dicendo E tutte le cose che vi procurerete Ve le terrete quando aprirà il server, ovviamente Esatto, niente Beta tester Quindi scrivete Massimo tipo... Non avrete vantaggi degli altri, ovviamente Ovvio Ho pescato un pesce Massimo comunque 3-4 persone Vi avverto già Ho pescato un pesciolino Ma te sono bravo Comunque, basta cazzo Cazzeggium E direi subito Buttala nell'acqua per il pesciolino Che muore L'ho tolto nella creativa L'ho ucciso brutalmente Ma poverino assassino Ma uscia, uscia Ehm... Andiamo al warp Vedete quanti warp ci sono? E volevate Ve li facevo vedere tutti Andiamo al warp Personali Paga Pagalizzo 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 Oggi queste Ma vuol dire quasi tutte Sono vecchi armi Che io avevo perso E ora le ho ritirate fuori Anche questa Anche questa Sono tutte armi Che queste erano vecchissime Mandate E non le avevo più ritrovate Quindi oggi faremo vedere vecchissime armi Quindi voi che piangevate Perché non tireravamo fuori le armi Oggi potete fare un sospiro di soliero Soliero Solievo Soliero Soliero Shot get Bomb Bomb Madonna Bomba E non è consumabile No Atra No Non è consumabile È bellissima questa arma Killer bill Madonna Madonna Anche questa l'ho provata È Bellissima Bellissima È l'arma di Crazy Horse Vabbè Il tema ci sta Sì vabbè Massimo della fantasia L'arma è la Death Deep Madonna Ip Sono cercato a scrivere Deep High High Eccola qua High E ovviamente è Biada Vabbè Ovviamente è Biada Perché ci sta Che sia Biada No ma questa guarda che è la skin sua Sì sì lo so che è la skin sua È bruttissima Scusami Ma è brutta Mi viene da piangere L'ultima arma che facciamo vedere oggi È l'arma di Match Non ricordo il nome per intero Quindi Match Numeri Non mi ricordo Ascolta se stai guardando il video Scrivi sotto come ti chiami Il nome per intero Poi modifico la descrizione del video Ma ti giuro Pronti Tam È ispirata Agli alieni È un'astronave Scusami ma questa è la tua texture No perché non No no Nella sua testa Però tecnicamente Doveva essere ispirata A un'astronave aliena Però non mi è venuta malissimo Da un'astronave aliena Che viene giù 180 colpi Oddio cosa c'è scritto Che è bugato No è che non ci sta Vabbè andiamo alle arene Vediamo tutte le descrizioni Quindi warp Posso vedere un'arena nuova? Sì Allora andiamo all'arena indiana Dove ti ho ucciso tante volte? No Arena indiana Guarda è bellina Questa è bella grossa Guarda è bellina Vai mettere giorno Non è male Eh metti sto cavolo di giorno Entra Ecco questa è l'arena Inziana Inziana Allora Vediamole nell'ordine Che abbiamo Che le abbiamo tirate Scenda da lassù Ma sono qui Che ti aveva visto? La prima arma È la bomba stellare Arma universale di Killer Bill Poi ci abbiamo Madonna Ma scrivete con la capo Non riesco a leggere Nien'chio Ma porca Tipo così Viene la descrizione Di del copy Ma perché mi dovete Mi odiate in questa maniera? Eh cerca anche quella di match Tanto che ci sei Perché io le ho quella di match Riesco a leggere l'inizio Ma io vi odio Io vi odio tutti Ah sì sì Quella di match La riesco a leggere Quella di Crazy no? Se questo fiene Incontrerai Gli inferi Tu vedrai Tu vedrai Cibo di cavallo paz Perché? Mentre quella di match È mitragliatrice Terrestre Terrestre Modificate nello spazio Dagli alieni È shatly Pensa una con la R Mosha Mitragliatrice Frate sai cosa Che non possiamo neanche provare Nell'arena Perché la bomba Se non sbaglio È un'arma Che spara dall'alto Quindi ci tocca uscire Perché ovviamente È tutto chiuso Da cose varie Quindi andiamo nel Wilderness Nooo Eh sì Mi tocca purtroppo Perché c'è il tettuccio E se no l'arma Non la vediamo Allora Quindi Prima arma L'ho provata È bellissima Bomba stellare Oh che figata È bellina E guarda E guarda E guarda i fatti L'artificio che fa Sono stelle Bellissima Sì ma aspetta Non spalmare Che si incoglionisca Tre Noi buttate Che cosa vuoi Pum 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 Ma è stelle È bellissima Questo mi piace troppo A me è piaciuto Un casino Quando l'ho vista La prima volta Guarda Bellissima Bellissima L'arma di La Deep High È un'arma Più da cura Se non sbaglio Guardate gli effetti Da un quintale di effetti Se non è fa Un maleboia Poi anche Dai dai Ci sta Ci sta Ci sta Da un casino di cura Quest'arma È una cosa Oppia schibus Secondo me Famabile Spammabile Tu stai Che a schifo Secondo me Io la sto spammando Dai OP OP E l'ultima è la Space Uzi Dai non è malacce Tanto di sicuro Come tutti gli altri Farà un maleboia Anche questa Probabile Allora fammi prendere Il cat Ender Il kit Il kit del VIP È una prot 5 questa Per chi se lo stesse chiedendo Per le prossime volte Fai un kit Semplicemente con l'armor Se no ti riempie l'inventario Faccio clear Chi se ne frega Non dovrei avere la god No non ce l'ho Allora iniziamo con questa Prova la bomba stellare Ho paura Non fa danno Ma fa volare In cielo Non fa danno ma fa volare in cielo Andiamo l'altro colpi Fermo Ai no A parte che non posso far più vp qua Mannaggia a te Davids Non puoi? E no mi dici sorry Allora dobbiamo entrare in un'arena Ma se hai detto che non possiamo Magari funziona Provo Provo Forse ho detto Una cazzata prima Allora Io ci sono già Anch'io Prova No funziona Vedi Mi hai abbiettato pure Come ti abbiettato Ti abbiettato Ok Allora Allora Come si chiama l'arma? Stella Bomba stellare Vieni qua No aspetta Ripolliamo Fa leggeri i danni Per favore Ah ok Demas multiplayer 200 Ah ok E uno si chiede perché mi odi Perché mi odi? No No Volo via Doppiattato di nuovo? Si forse devo diminuire un po' il vieding Giusto un pelino Le prove si fanno anche per questo Cioè scherzi Dov'è la mia armor? Fa Un pochito pochito Ti strutta un pochettino Giusto un pelino Madonna me la pure Fix arm Che ti obbiettato Ma di brutto anche Aspetta fix all Madonna mi hai fatto malissimo Allora adesso proviamo Io ho paura Io ho paura Tanta paura Ho paura Proviamo questa La viata Prova Devis Hai rotto le palle di perdere la testa Come si è Havast arm No aspetta Prova un colpo Prima di No io prima Vedete il danno Perché sono Fai back prima che possa Crear lag Forza Vedete il danno Vedete il danno 300 danno multiplayer Indossa Ma siete pazzi Siete pazzi Siete pazzi Che effetti ti dà? Fame Pozione 3 Blindness Wither Nausea Ma siete pazzi Siete pazzi Ragazzi Vediamo quella di Max? Io ho paura No Ha danno contenuto Per una volta Wither 3 Oh però Wither 3 Per un minuto Space Fa vedere Quanto danno C'ha Mamma Oh Ma fa culo Eh 45 Dai Questa Tra le tre È la più equilibrata Guarda Questa forse Tra tutte È quella che magari Meno effetti Ma è quella Più equilibrata Porca troia È quella più equilibrata Di tutte Perché dovete Menterci 300 Di danno Ma siete pazzi Siete completamente Folli 300 200 Ma c'è No 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 Mi scappo Madonna Per fortuna Che c'è un Bravista Da Ah Non mi è Il bieding Assolutamente Devo diminuirlo Ma a tutte A tutte e due Che Fatti biedare Una volta Che nel WGF Ti vorrebbero tanto Piedare Mi ha fatto La mia testa Ovunque Vabbè Ci dettagli Oddio Oddio Allora Bene ragazzi Dettagli Bene ragazzi Spero che questo video Possa essere piaciuto Queste sono No A fa culo Queste sono Le tre armi Che abbiamo visto oggi Spero che il video Possa essere piaciuto Vedete Lasciate il pollice So Ho tre teste di David Se le vendo A 10k l'uno Chi le vuole Vogliamo dire Più che altro Perché ci rompo Nel cazzo Possiamo dire Circa Secondo Quando potrebbe Iniziare La cosa Dei beta tester La cosa Del concorso Fine estate Perché sinceramente Voglio godermi Ancora qualche giorno D'estate Io inizio la vendemia Poi Questa settimana Che eri da oggi Inizio la vendemia Di David Che finisce Però comunque Allo stesso tempo Vi diciamo Verso fine estate Vogliamo cercare Di aprirlo Facciamo Per metà settembre Hai la vita A merda Che pensate Che non faccio Un cazzo E pensate E' un po' Di tosse David Vogliamo parlare Vogliamo davvero Parlare Vogliamo davvero Parlare Che cavolo Vuoi da me Cos'è che fai Gestisco Ma vabbè Ma vaglia Vaglia Comunque Mi muova Vabbè Ho vinto altri 100 dollari Allora Iscrivetevi al canale No Condividete Mi piace Mi piace Poi Ah match Mi raccomando Se stai vedendo il video Scrivici il tuo nome Sotto Come ti chiami per intero Su minecraft Sono più premesse che altro Stiamo facendo durare Sto video solo per le premesse E niente Per un momento No Aspetta Iscrivetevi Al mio canale Instagram Che è a sé Anche quello di Davids Che è great player Davids 17 Io pubblico una cosa Ogni morti di papa Anche lei Io pubblico Praticamente No Io pubblico anche Quello che mangio Guarda ho creato un'arma Ispirata a Gragas Vedere Parire esplosivo Parire esplosivo Muoviti E prometto Possiamo dire Che è Finita Ditimi Ditimi a cosa appartiene Quest'arma Parire esplosivo Spacco tutto Madonna Frinita 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 Frinita